l'otto 1074 italia san marino e vaticano accumulazione di francobolli nuovi con alto valore non facciale in una scatola vediamo cosa c'è e questo portafogli è tutto pieno di mezzi fogli il periodo di paolo sesto vediamo venezia qua ci sono tutte annate tutte messe in quartina blocchi di sei con parecchie ripetizioni vaticano san marino non li tiro fuori tutti vabbè ma è giusto per farvi rendere conto c'è dell'italia repubblica pure andiamo con la repubblica qui dentro ci sono 20.000 lire tutte blocchi quartine sempre di repubblica qua dice francobolli del 1984 ed è così in quartina qua dice francobolli del 1988 ed è così sempre in quartina anche con ripetizioni come si può vedere qua c'è una busta con un po' di facciale sparso tra cui anche un 10.000 di alti valori in quest'asta di lotti con valore facciale elevatissimo elevato elevatissimo ce ne sono parecchi questo è 1985 sempre in quartina e blocchi vari qua c'è una bustina con un po' di castelli in bobbina un foglio intero del millerie campione del mondo un cd di francobolli a scelta di vaticano questo è un libretto ah questo è un libretto con usati di vaticano sede vacante primo giorno ecco qua qua c'è la stampa cattolica il giuridico giardini e medaglioni c'è pure un valore della provvisoria il 305 è già solo questo libretto non sa che fa il costo dell'otto o quasi c'è un pollo di seta due quattro sei otto dieci dodici saranno grossomodo una quindicina di pezzi che fa sempre blocchi l'italia repubblica questo analogo di san marino di nuovo l'italia repubblica un po' più anzianotti l'italia repubblica qua abbiamo del vaticano vedo foglietti blocchi anche qua con parecchie ripetizioni c'è pure qualche intero postale qua c'è un misto sì sempre l'italia repubblica blocchi quartine l'italia repubblica l'italia repubblica l'italia repubblica qua sempre l'italia repubblica castelli in bobbina non si riesce a vedere comunque in trasparenza si capisce queste sono tutte piene qua ci sono alcuni foglietti del poligrafico è sempre franco bolli d'italia repubblica e anche qua franco bolli d'italia repubblica il lotto direi che è molto ben assortito se volete altri video e informazioni iscrivetevi a filateliachiocciolaquattrobaiocchi.com